Dunque, se Zed continua col suo piano, ogni ranger verrà indebolito? Esatto, in ogni flusso temporale. Potrebbe indebolire perfino i ranger che lo hanno sconfitto la prima volta. Ti aiuteremo dopo aver fermato Chubo. Ehi, venite a giocare, ranger! Ehi, venite a giocare. Ehi, venite a giocare. Ehi, venite a giocare. Sì. Sì. Ti nascondi ancora dietro i tuoi scagnozzi, Ciubo? Attenti, Ranger! O saremo costretti a darvi una sonora lezione! Molto bene! Ja! Sì! 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 Molto bene. 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 Arrenditi. Molto bene. 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 Venite. Veniti a giocare. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Yeah. Yeah. Sono così. arrabbiato. Sono così. arrabbiato. Molto bene. Molto bene. Grazie a tutti. Sarò rapido indolore. Sarò rapido indolore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.